Figlioli carissimi, vi abbraccio tutti e spero che la vita vi sorrida e che voi impariate a sorridere la vita. Siamo sempre dentro il capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo e questa domenica in questo discorso in parabole Gesù presenta due parabole che sono quasi gemelle seppur distinte e un po' diverse. La parabola del tesoro nascosto nel campo è la parabola della perla preziosa. Gesù mette in scena due uomini, due personaggi. Il primo è un contadino, un povero contadino che lavora presso il terreno di un altro, quindi non è proprietario di quel terreno. Il secondo invece è un mercante di gioielli, un gioielliere, ed è molto ricco perché possiede degli empori. Eppure quello che ha non lo rende felice. Lui insegue un sogno, una perla rarissima, di eccezionale valore. Questi sono i due personaggi. Il primo personaggio, mentre si trova a lavorare nel terreno di un altro, scopre un tesoro, una specie di giubatura. Qualcuno aveva nascosto sottoterra il suo tesoro e poi magari è morto, insomma le vicende della vita, il tesoro è rimasto lì. Questo povero contadino scopre lavorando questo tesoro. Scopre lavorando. Quindi questo particolare è importante perché anche ciò che è bello nella vita, ciò che è bello nella vita va sudato, va guadagnato e poi ti viene incontro quando meno te l'aspetti. Così quest'uomo che ha lavorato, ha sudato e trova questo tesoro, si mostra una persona profondamente onesta. Non può appropriarsi di quel tesoro perché il terreno non è suo. Ed ecco allora le azioni che compie. Dopo aver trovato, va, vende tutto, compra il terreno. Così quel tesoro può essere suo a pieno titolo. Il mercante invece non incontra un tesoro o la perla così per caso. Anche lui fatica, lavora, ma cerca. È un verbo straordinario questo zetein. Cercare significa impegnarsi totalmente a inseguire un ideale. Qualcosa che ti sta così tanto a cuore da dare riposo e felicità al tuo cuore, da illuminare la tua vita. Questo ha tanti, tanti empori, tanti negozi di gioelleria. È ricco ma insegue quella perla rara. Dunque questo mercante ci viene presentato come uno che non si accontenta di quello che è e di quello che ha. Vuole essere e vuole avere di più. Ma per essere di più deve vendere tutto quello che ha. Perché la trova questa perla preziosa. E anche lui, come il contadino, dopo aver trovato, deve fare queste tre azioni. Andare, vendere tutto, comprare. Sembra, a prima vista, una perdita. Cioè questi che vendono tutto per comprare. L'uno il terreno dove c'è il tesoro, l'altro la perla. Ma in realtà è un affare, è un guadagno. Il mercante non è così scemo. Ma quella perla gli ha rapito il cuore. A quel tesoro il contadino ha legato il cuore. Perché il tesoro, come la perla, chiede un senso di appartenenza. Il tuo cuore appartiene adesso a quel tesoro. Il tuo cuore appartiene adesso a quella perla. Hai faticato, hai sudato, hai cercato o hai fortunatamente trovato un tesoro che non ti aspettavi. Adesso devi fare qualcosa tu. Devi vendere tutto. 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 E allora auguro a me e a ciascuno di voi di sapere lavorare, lavorare la vita, di saper scavare, di saper cercare senza stancarci. Cercare per trovare. Dopo aver trovato, continuare a cercare, insegnava Sant'Agostino. E così il tesoro ci verrà incontro. La perla la troveremo. Ma dobbiamo essere disposti a vendere tutto. Diversamente saremo come il giovane ricco che, non essendo disposto a vendere tutto, se ne andò via assai triste e abbattuto. Auguro a tutti invece di trovare la felicità. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Arrivederci. Grazie a tutti.